La Torre di Guardia afferma che prima del giorno di Armageddon ci saranno degli avvenimenti che segneranno l'inizio del giorno di Geova, diciamo così, o dicono così, e questi avvenimenti consisteranno soprattutto in questa messa in atto di una distruzione a livello planetario delle varie religioni, cioè tutti gli stati maggiori si metteranno d'accordo e cominceranno a distruggere tutte le varie religioni, quindi quella cattolica, poi magari andranno i musulmani, poi gli hinduisti, poi gli scintoisti, i mormoni, insomma tutte le religioni, quando le avranno eliminate tutte si passerà all'unica vera religione che è quella ovviamente dei testimoni di Geova, però a quel punto Geova dirà, no, basta, state toccando l'unica vera religione, no, vi distruggo io, ma forse non si rendono conto di una cosa, che tutti gli stati del mondo dovrebbero mettersi d'accordo, ma questo fatto è banale, se non altro perché, ad esempio, non tiene conto del fatto che ci sono stati islamici dove non c'è distinzione tra diritto civile e diritto religioso, dove c'è la sharia, quindi parliamo di paesi come l'Iran, nell'Arabia Saudita, l'Egitto, la Tunisia, tantissimi altri stati arabi, dove i capi politici, dico lo Stato, sono anche capi religiosi, cioè sono loro stesse guide religiose, e quindi non potrebbero mai mettersi d'accordo per distruggere la religione che loro stessi guidano, di questo ovviamente non ve ne parla l'attore di guardia in questi sproloqui, scusate, ma sarebbe come dire che il Papa partecipa a queste riunioni di grandi stati, e poi dice, sì, sì, il soggetto della Chiesa Cattolica, mi raccomando. Però, se tutti gli stati del mondo, addirittura, pensate, non sono stati capaci di fronteggiare una minaccia come l'Isis, e non sono ancora riusciti a eliminarli, che avevano tutto l'interesse per il terrore che seminano in ogni, cioè in parecchi stati del mondo, cosa vi fa pensare che potrebbero eliminare, e poi mettersi, per eliminare che cosa? religioni che fanno del bene, che aiutano la gente, che soccorrono la vedova, il forestiero, cioè che in ogni latitudine del mondo, come dico spesso, anzi, fanno da ammortizzatore sociale, aiutano molti stati, da dove, ad esempio, non esistono sistemi sanitari, e via dicendo, per distruggere cosa? Ma insomma, veramente, vi invito, ve lo dico con affetto, riflettete, su quello che vi viene propinato, perché è una strategia che, a mio avviso, veramente dimostra tutta la debolezza, e sentono proprio il fiato sul collo, ecco, perché stanno vedendo che non c'è crescita nei paesi del cosiddetto primo mondo, la crescita eventualmente c'è stata solo nei paesi del terzo mondo, perché? Perché più facilmente, purtroppo, la povertà, l'ingenuità, l'ignoranza, porta a credere, a cascare in queste racconti che non rasentano, ma superano il ridicolo.